E qui c'è un euro-goal che non avessi di scolata di vedere in tutti i modi possibili. E c'è ancora una rete. Invegata la grande creazione, veramente bellissima, perfetta. Guarda la strada di Stigerberg che però ha rete del 3-1. E questa è una conclusione perfetta, proprio forse nel momento di un gioco. Quindi doppietta personale della classe. Altra azione perfetta. Ma che bellissima rete, anche questa, veramente. Ancora, tramvita dalla Repubblica, scelta a Roma. E non c'è la scatola che sta provando la numero uno. Per questo nonno, le parole direttamente dal centro. Ancora, tramvita dalla Repubblica, scelta a Roma. Anche questo è un anticipo bellissimo di rapida della Repubblica, scelta. che si porta sul lontano. E si porta sul lontano. Beh, anche questo anticipo, raccoglie, si coordina da lontano, vede il portiere. un po' un po' un po' un po' in questo fin a due giorni lo ricordiamo non perdete il programma tutto il programma oggi è pomeriggio ora